Ciao ragazze! Oggi mi sento un pochino biancaneve con queste labbra rosse rosse che poi rossa non sono e ho più un fucsia però in video risultano rosse quindi mi sento un po' biancaneve beh la pelle bianca c'è su questo non c'è dubbio allora, questo è un video per farvi vedere cosa ho comprato della Essence sono passata da coin già due settimane fa se non sbaglio sono passata da coin e ho comprato alcune cosine della nuova collezione ma questa volta non tantissime perché non c'è in sé tantissimo che mi piaccia l'anno scorso ho comprato un sacco di roba adesso tante novità non è che ci siano fondotinta non ne ho presi perché sono a posto devo ancora finire i miei quindi qualcosina ho preso allora, tutte queste cosine me le ha regalate il mio ragazzo è stato molto carino perché lui già si aspettava che prendessi chissà che cosa mi fa dai te le regalo io alla fine non ho preso tantissimo quindi gli è anche andata bene tutto sommato è stato carino perché appunto mi ha fatto questo regalino e niente vi faccio vedere che cosa ho preso comincio con la pochettina questa è la pochettina di Essence carina sicuramente terrò in borsa anche perché avendo un colore chiaro così non la perdo in borsa a questi qua e per i prezzi o ve li scrivo nell'info box o devo recuperarli perché ho lo scontrino ma non so quanto costi ogni singolo pezzo perché sapete che c'è solo scritto Essence, Essence, Essence e basta quindi questa pochettina molto carina poi della vecchia collezione ho ricomprato l'indurente questo qui scusate, non l'indurente il top sealer ovvero il top coat della studio Niles che è quello che adoro più di tutti che inizialmente avevo scartato e poi ho recuperato e ho finito quello che avevo e ne ho comprato un altro poi ho comprato per i curativi delle unghie diciamo questo nuovo indurente XXL Nile Tickner si, si, leggera Tickner è un indurente che ha questa colorazione un po' lattiginosa sulle unghie lascia un leggero rosato l'unghia leggermente rosata un po' sbiancata tra l'altro con un effetto un po' così un po' come gli smalti sbiancanti adesso non so se questo sia uno smalto sbiancante devo vedere poi sul foglietto illustrativo di tutti i prodotti nuovi se è sbiancante però non lo so e l'ho messo dice che si asciuga velocemente e l'ho messo sotto questo smalto qui e questo smalto qui tra l'altro l'ho comprato nella nuova collezione però lo faccio vedere dopo adesso passiamo sempre ai curativi allora ho preso quest'indurente qui che è sempre nuovo studio Niles Ultra Strong Nile Hardener il problema è che non ho letto gli ingredienti che c'erano e contiene formaldeide non è una gran cosa come indurente va bene perché comunque indurisce veramente bene però non va usato se proprio lo volete comprare non va usato spesso io ormai ce l'ho farò che magari mettere una settimana uno una settimana l'altro alternando questi due qui per non buttarlo via però sappiate che questo qui contiene formaldeide che è una sostanza cancerogena infatti c'è anche scritto qua sopra che non va usato spesso non più di tre settimane consecutive e ogni due giorni eliminare lo smalto con un solvente senza acetone ed aspettare un giorno prima di riapplicarlo quindi non è che faccia gran bene io dato che cerco di tenere lo smalto su più di due giorni se mi dura di più lo tengo di più l'altra volta l'ho tenuto quasi una settimana forse anche di più di una settimana perché non ho avuto il tempo di farlo infatti nel video passati avete visto le unghie blu che avevo che erano tutte sfasciate tutte con lo smalto saltato perché appunto non avevo avuto tempo adesso ho messo quello lì vediamo un po' come va come indurente poi questo qui è una cosa veramente veramente furba lo studio Niles Anti Split Niles Sealer che serve se ho capito giusto se ho capito bene è un è un base coat c'è scritto e protegge le unghie dallo sfaldamento io ho le unghie che mi si sfaldano soprattutto questa qua infatti tende a non crescere più di così perché si sfalda comunque protegge le unghie dallo sfaldamento quindi è una cosa molto molto furba infatti ho già ho già usato un pochino vedete io cosa faccio lo applico solamente sulla lunghezza o comunque dove l'unghie sfaldate o non su tutta su tutta su tutta l'unghia solo sulla lunghezza sulle punte appunto e niente cosa faccio applico quello lì un leggero strato lì e poi uso l'indurente su tutta l'unghia per ora sembro proteggerle abbastanza però lo testerò meglio poi gli smalti ho preso queste due colorazioni qua che adesso voi mi direte ma sono uguali sono molto simili effettivamente allora questo è un lilla che vira al viola questo invece è un lilla che vira più sull'azzurro allora questo qui è l'86 a lovely secret che ha queste non so faccio vedere se ci riesco ha delle piccole perlescenze ha un effetto molto particolare sull'unghia non so se vedete tipo marmorizzato non so spiegarvelo ci sono tipo dei micro puntini viola più scuro ma non sono brillantini cioè sono proprio puntini non so se non riesco a farvelo vedere qui fa vedere che ci sono vedete delle perlescenze però sull'unghia risulta così ed è molto molto carino invece questo qua è il 97 che si chiama Absolutely Blue infatti è un violetto che tende all'azzurro o blu e mi piace veramente veramente tanto infatti le ho prese tutte e due perché non avevo di questi colori quindi ne avevo solo uno di lilla e quindi ne ho presi un pochino per cambiare un po' la tonalità poi questi smalti qui aspettate che ve li faccio vedere questi qui che sono quelli doppi che poi uniti formano un terzo io ho utilizzato per ora solo questo qui che è blu e sopra mettete questo colore qui e ha delle vedete delle micro pagliuzze che non si fa neanche fatica a togliere tutto sommato sono proprio micro pagliuzzine leggere leggere ed ha sul viola vedete io già l'ho usato e questo si chiama si chiama si chiama 01 midnight date potete utilizzare non lo leggete midnight date lì potete utilizzare una parte o l'altra tutte e due insieme formato un terzo colore infatti sono i nile colors alla terza questo qui invece è il 4 a walk in the park che ha il verde e questo azzurrino con questi sempre per le scienze perché non sono glitter perché sono piccoli piccoli non sono glitter comunque veramente veramente mi piace mi piace veramente tanto anche questo colore qua infine ho preso questo qui questo fucsia che si chiama 02 shopping trip in soho faccio vedere ok che è questo fucsia con questi glitter fucsia proprio magenta sono proprio è un color magenta sempre con appunto queste pagliuzze non glitter ma pagliuzzine e sono veramente curiosa di provarlo questo qua mi piace mi piace un sacco veramente un sacco poi l'ultima cosa che ho preso della nuova collezione è questo color and shine shadow che sono gli ombretti cotti il 14 diva love drama divas love drama che questo colore qui ma non fatemi ingannare perché è molto scuro e vi dirò che se non lo rompo è meglio vi dirò che io questo qui l'ho utilizzato appunto per fare la sfumatura grigia scura nell'occhio quindi è questa faccio un pochino di zoom questa è la tonalità vedete quindi non è un colore molto chiaro non prendetelo se credete che dà più sul fucsia perché dà più sul nero è molto simile a quello della marble che è anche quello che ho preso che ho fatto vedere nell'altro video dà più sul nero vedete di fucsia c'è ben poco qualche glitter fucsia sì però alla fine poi non è che renda molto e poi ho preso il mio eyeliner in penna preferito che è questo qui della vecchia collezione cioè della collezione proveniente vecchia essence sun club che è waterproof e ha la punta così io mi ci trovo davvero davvero bene l'ho utilizzato anche oggi per fare questo trucco riesco a essere molto precisa perché la punta è veramente molto sottile e niente ragazzi quindi questo è tutto quello che ho comprato sono poche cosine però ho preso prevalentemente smalti lo so perché sapete che ho la fissa per gli smalti anche perché comunque di ombretti ne ho un sacco ho preso solo quello lì appunto perché era particolare ombretti ne ho un sacco blush non li ho trovati volevo il blush prendere almeno uno dei blush in crema però non li ho trovati e nemmeno il pennellino nuovo da ombretto ho trovato quelli forse li comprerò e ve li farò vedere poi in un altro video sempre semmai riuscirò a trovarli e e poi cos'è che non ho trovato niente perché poi fondotinta appunto vi ho detto non mi ispiravano più di tanto la nuova linea delle creme non credo sia ancora uscita quindi devo aspettare che esca e basta nient'altro io spero che il video vi sia piaciuto un bacione e alla prossima ciao ciao